Sono andati in scena sabato mattina gli Oscar della scuola dell'ITIS per la giornata dell'eccellenza. Appuntamento diventato da alcuni anni un momento importante della scuola dedicato alla premiazione degli studenti che nel corso dell'anno scolastico si sono distinti per preparazione, merito ed infine nell'esame di maturità. Noi vogliamo premiare il merito, valorizzare questi ragazzi che si sono impegnati negli anni che hanno frequentato l'istituto perché loro si sono diplomati a giugno dell'anno scorso e hanno ottenuto dei risultati veramente eccellenti. Vogliamo premiarli perché lo sforzo, l'impegno è un valore che dobbiamo assolutamente valorizzare in una scuola come l'istituto tecnico in cui è una scuola che cerca di dare il massimo agli studenti. Sicuramente gli anni che frequenti l'ITIS non sono anni facili, nel senso non è una passeggiata proprio come andare per il corso, però alla fine del percorso hai un bagaglio di conoscenze, soprattutto come ho fatto io nel settore sanitario che se fai l'università come la faccio io ti danno una mano anche nel superare degli esami dove magari altri studenti che hanno fatto altre scuole meno specifiche in questo settore sicuramente queste conoscenze non hanno. Grazie.